Adesso parliamo di PowerStore. PowerStore è lo storage aziendale reso semplice. Cos'è che rende semplice questo storage? Lo rende semplice sia il modo in cui viene adottato e viene implementato, sia tutta la sua componente riesce a renderlo versatile rispetto a chi lo adotta. La tecnologia Zero Trust permette di avere dati sempre al sicuro, una scalabilità e un'efficienza sempre all'avanguardia e riesce ad ammortizzare gli investimenti nel breve periodo. Perché diciamo questo? Perché la tecnologia PowerStore è basata sulle migliori configurazioni del mercato, ha la possibilità di essere integrata con un'intelligenza e un'automazione abbastanza particolare e riesce a rendere l'infrastruttura sempre moderna e resiliente. Sappiamo che oggi alla base delle infrastrutture aziendali ci sono i dati. L'obiettivo principale di PowerStore è di rendere, di efficientare quei dati, renderli sicuri e permettere alle infrastrutture che l'adottano di essere scalabili nel tempo. L'ultima domanda da porti è semplicemente una. Quanto budget hai? Il budget da ora non sarà più un problema. Grazie alla collaborazione tra Dell Technology e TD Sinex con la BU specializzata in soluzioni storage, questo non sarà più un problema. Riusciamo a configurare la tua soluzione e a darti consigli utili per rendere la tua infrastruttura agibile, sicura e scalabile.